Buonasera, siamo qui con Sgueglia e Iervolino, entrambi i migliori in campo nella partita tra Realcerchi, Capì e discutiamo in FC. Allora, Sgueglia giusto, autore di un gol, mentre Iervolino di due. Una prestazione ottima anche perché la partita è finita sopra di molto e voglio un commento da entrambi. Mettetevi vicini perché sennò mi entrate nella telecamera. Su, parla, parla, Iervolino, non emozionarsi. Allora, sono contento di aver ricevuto il premio come migliori in campo, in quanto è stato dura l'inizio del torneo per me perché sono nuovo. Sembra abbietà ambientare. Sembra abbietà ambientare, dice. Hai fatto un grande gol oggi. Finalmente le cose vanno bene, la squadra gira bene. Siete i primi in classifica stasera. No, passate le tue persone. Le mie fecce, sì. E Iervolino, voglio sentire Iervolino. Allora, la stessa cosa che ho detto inoltre, una etica speciale. Al primo gol di Tuscillo. Sì, vai, complimenti. Facciamo anche i complimenti al portiere che è stato su erbo. Brava, banana. Ok, va bene. Allora, un saluto a Eriaccio e che cadi. Ok.